Il mio allenatore in seconda si chiama Andrea Tarozzi, è il preparatore atletico Luca Morellini e il preparatore dei quartieri Alberto Bartoli e poi un collaboratore tecnico che è in Parma che è in Parma. Ci scrivono scherzando da casa, in maglia granata la presentazione deve adeguarsi velocemente a Parma. Noi di Parma. Tu l'hai avuto come giocatore a Ricciardo e anche a Morellini. Ho avuto il portatore e ho cominciato con me. Allora si fa finta che non ci sia il Mistra, come Tarozzi me lo ricordo che giocava in Pologna. Sono due persone vere e poi il loro lavoro si fanno male e iniziamo qui perché non hanno bisogno di invitare. Grazie. Grazie.